Una tapparella che si abbassa, una figura alla finestra che si ritrae, volti di passanti insegnati dall'angoscia, sono gli ultimi segni della tragedia e della disperazione che stanotte ha colpito un appartamento di un condominio di via Brenti 2, una travessa di via Giuseppina a Cremona, dove un uomo di 77 anni, Libero Marini, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, ha posto fine alla vita della moglie, Estrina Chiari, di 73 anni. L'anziana signora era stata colpita da un ictus e dopo le cure ricevute nella clinica Ancelle della Carità di Via Selli, dove era stata dimessa da due giorni, si era ritrovata per la prima volta nella sua vita in una condizione di non autosufficienza. Il marito aveva fatto eseguire alcuni lavori all'interno dell'appartamento di via Brenti per rendere più semplice la vita quotidiana all'anziana moglie, conosciuta come donna dinamica, che aveva accudito figli e nipoti con gioia e che da quanto viene riferito da amici parenti, non aveva accettato lo stato di infermità. Il marito, alle due di notte, ha deciso di porre fine alla vita della moglie con un colpo di coltello alla gola. La morte è stata immediata. L'uomo ha poi aspettato che la badante assunta per assistere l'anziana moglie arrivasse e scoprisse quanto era avvenuto. I carabinieri così hanno arrestato per omicidio aggravato Libero Marini. L'uomo, all'arrivo dei militari, era sotto shock. L'arma del delitto è stata trovata e consegnata alla magistratura. In via Brenti, poi, sono sopraggiunti il pubblico ministero Laura Patelli con il medico legale, oltre a una delle figlie, residente a Cremona. L'assalma di Ernestina Chiari è stata trasportata nella sala mortuaria dell'ospedale maggiore in attesa dell'autopsia. Libero Marini dovrà entrare in carcere.